Ciao, benvenuto al consueto aggiornamento ciclico per quanto riguarda il Bitcoin e Ethereum. Allora, per Bitcoin non c'è molto da dire. Il mercato è completamente impallato in laterale, vado a levare circa 10 giorni che non guarderemo più, e il mercato è completamente impallato in laterale, quindi non lavorabile chiaramente al momento. Se dobbiamo guardare il trend di fondo, che è quello che a noi importa, quindi andiamo a selezionare cicli da 80 giorni che sono ancora una fase ribassista, cicli un po' più grandi da 20 settimane, che sono ancora una fase di rialzo, ecco che abbiamo la conferma della lateralità. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo cicli che spingono verso il basso, quindi che danno una spinta ribassista al mercato, abbiamo nel contempo cicli che spingono al rialzo, quindi che danno una spinta rialzista al mercato, 1-1 da 0, 2-2 da 0, e questo provoca una lateralità, e infatti al momento questo il mercato sta confermando. Cosa dovremo fare per i prossimi giorni? Un attimino, sigla del canale e saremo subito insieme. Rieccomi, se è la prima volta che stai guardando una mia analisi sulle criptovalute, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube, sono Paolo Pesino, sono un trader dal 2007, e mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com. Ti invito a registrarti al canale Telegram, non dovrai lasciare nessuna email, non riceverai mai un email da parte mia di marketing aggressivo, ho un normale canale Telegram dove vado a condividere tutti i giorni le mie analisi multi-day su YouTube, quelle in 3-day, e dove condivido anche i link delle dirette settimanali che faccio con la mia operatività live. Ti invito anche a visitare il sito dal 2007 e faccio trading, dal 2008 grossomodo ho il mio sito internet, quindi c'è tutto il mio mondo di trader qua riversato. Segnale in 3-day sugli indici, indicatore e volte, anche quello che ti invito a utilizzare per lavorare con le criptovalute, per fare un'analisi con le criptovalute, e quindi imparare come sia possibile, conoscere con mesi, giorni, ore di anticipo, ciò che accadrà sul mercato, sia quando il mercato inizierà una nuova fase di trend o quando il mercato terminerà una fase. Per te è molto importante perché saprai che una tua operazione la dovrai chiudere più o meno intorno a una data precisa. Perché dico più o meno? Perché non può essere la data esatta, ma c'è un minimo di varianza. Però è molto importante sapere che raggiunta una certa scadenza temporale, conviene liquidare la propria operatività o cercarne un'altra rispetto a quello che magari era il segnale che si stava cercando. Se vuoi approfondire al 100% il mio mondo, corso di analisi ciclica e volumetrica, imparerai tutto quello che c'è da sapere sul mio modello ciclico e anche su come abbinare l'analisi ciclica e l'analisi volumetrica. Fiora all'occhiello, sono le due ore di coaching individuali direttamente con me, è un anno intero di ricerche dell'indicatore e il canale Telegram adesso dedicato. Parliamo di 60 ore di formazione, quindi qualcosa di veramente molto approfondito. Ti renderà uno dei pochi traders in grado di prevedere i mercati con grande efficacia. Cosa ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda Bitcoin? Abbiamo un bel massimo per quanto riguarda il ciclo da 40 giorni previsto per il 7 di agosto, che è questo ciclo qua. Abbiamo il ciclo a 20 giorni che è previsto per il 4 di agosto e il successivo ciclo per il 17 di agosto, quindi iniziamo già a capire che ci troviamo di fronte a una serie di massimi ciclici che stanno spingendo al ribasso il mercato. Non dimentichiamoci che la tendenza di fondo, andiamola a vedere, per quanto riguarda il 80 giorni è ribassista, quindi nel momento Bitcoin è ancora da andare a lavorare in fase di ribasso. Il possibile segnale long che era più o meno in quest'area per quanto riguarda l'analisi di settimana scorsa, ovviamente ormai è invalidato perché il 7 di agosto è fra tre giorni e quindi non ci andiamo a posizionare al rialzo quando mancano tre giorni al picco, perché dal punto di vista temporale siamo troppo tirati e troppo tardi. Quindi rimaniamo in attesa per eventualmente cercare delle indicazioni ribassiste e sicuramente sarà interessante quest'area, quindi stiamo parlando dell'area di livello di 28.390, sotto di essa sarà possibile intorno al 7 di agosto iniziare a cercare delle indicazioni di ribasso con prossima area di target, il prezzo medio di 26.955. Ovviamente queste sono indicazioni di quello che su base statistica mercato potrebbe fare, sarà poi a te decidere se entrare al mercato e che cosa fare con l'eventuale operazione. L'unica cosa che non mi piace di questa situazione è questo stocastico totalmente iniper venduto, io lo proferirei 100.000 volte iniper comprato per poter andare short, è vero che non è indicatore di ingresso al mercato lo stocastico, però è sempre meglio averlo dalla parte tra virgolette corretta, ossia opposto al movimento che noi vogliamo andare a prendere. Quindi anche qui un pelo di attenzione, a parte che siamo comunque in anticipo, iniziamo a cercare delle indicazioni intorno al 7 di agosto, andiamo a tracciare un'altra online, online che ciclicamente non è ancora valida, questa invece assolutamente sì, online del ciclo a 40 giorni, questa la andiamo alle male, aveva generato lo short, online del ciclo a 40 giorni è già rotta, quindi ci sta confermando il picco del ciclo a 80 giorni e anche la fase di ribasso, l'ha anche ritestata, quindi sì, secondo me la rottura di quest'area potrebbe essere interessante per cercare un ribasso. Andiamo a vedere adesso Ethereum, Cosa ci racconta? Ethereum sicuramente più bello, più bello perché sta in una fase nitida di ribasso, sta anche seguendo correttamente la previsione, vediamo che il mercato sta seguendo veramente molto bene la previsione, area di rialzi che andava dalla data del 28 di luglio fino al 9 di agosto, quindi tutta questa è un'area importante dove potremmo ricevere delle conferme, da parte del mercato per un'accelerazione arrivasse, andiamo ad aggiungere anche le prossime date, 22 agosto un minimo del ciclo a 40 giorni, minimo del ciclo a 80 giorni, praticamente stessa data, e questo è un segnale veramente importante. Abbiamo già avuto anche la rottura della trendline del ciclo da 40 giorni, cosa quanto importante, quindi già il mercato l'ha rotta, o lo va a ritestare per ripartire, oppure perché no, già direttamente con la rottura di questa piccola flag che si sta venendo a formare, secondo me si potrebbe già valutarlo con a questo punto la conferma sotto 1782 di un possibile ribasso che vedrà come prima area di target 1704 come seconda area di target 1627. Questi sono i due livelli che potremmo andare a lavorare. Ovviamente ciò che era una possibile rialzo è stato completamente vanificato, il mercato non si è mosso, quindi tutto ciò che poteva essere un segnale di rialzo lo andiamo ad abbandonare e l'unico segnale che possiamo prendere in considerazione al momento rimane appunto quello ribassista sotto a 1000, anzi andiamo a metterlo qua, se ci lascia, ok, sotto a 1789. Con questo direi che è tutto, come sempre se a te è piaciuta l'analisi ti invito a mettere un like, a te non costa nulla per me è veramente molto importante e ci aggiungiamo con le prossime analisi sulle criptovalute. Ciao e buona giornata.